GF VIP, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi troppo per me, forse la devo lasciare. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono quasi sempre insieme. Dopo l'eliminazione dalla casa del GF VIP, l'influencer ha raggiunto il suo fidanzato e da quel momento non si sono più separati. Infatti, dai contenuti social che entrambi condividono sembrerebbe che tra di loro proceda tutto a gonfie vele. Tant'è che Edoardo ha condiviso nelle sue Instagram Stories una foto di Antonella mentre dorme e ha scritto, raga forse la devo lasciare troppo bella per me. I due ex concorrenti del GF VIP appaiono raggianti e innamorati sui social, segno infallibile che hanno intenzioni serie di vivere felicemente la loro storia d'amore. Tra gli ultimi contenuti social Edoardo Donnamaria ha pubblicato una tenerissima fotografia di Antonella mentre dorme. I due sono sempre più affiatati e complici. L'ex schermitrice ha anche condiviso una galleria degli ultimi giorni e dei momenti vissuti al GF VIP con Edoardo con una romantica dedica, grazie a te so cos'è l'amore. Muzica